Dai, i quattro dell'Avamaria c'è qui Marco, Lele, Simone, Dio, Giorgio Cominciamo subito con questa partita di demolizione in jungle Già qui ridono tutti perché sanno che fa cagare Niente, allora ecco un modo come camperarsela alla stragrande in questa mappa Ve l'ho già dimostrato prima in un vecchio video dove non abbiamo fatto commento Perché ci sono tre figli di troia qui dietro di me Oh, insulti? No, non ero nessuno Era un'affermazione Ecco sì, un'esclamazione così che mi proviene dal cuore E niente, lì però me la stavo camperando col FAMAS Adesso me la campero col Commando È più carino, a me piace di più il FAMAS Beh certo Con la mimetica oro spacca di brutto Eh sì Peccato che te sei al quarto livello su Black Ops Quindi non puoi saper neanche com'è la mimetica oro Ti penso che stai dicendo che ce la so com'è È oro, il colore è oro Non è che è blu, il colore è oro perché ce l'ho fatto di bello Lele va a fanculo Però è giù, le Scusa E niente, allora qui subito ho incominciato a fare le mie prime uccisioni E niente, come bonus ho antischegge Molto utile durante demolizione, cerca di strugge Perché tutti vanno di granate, lancia granate La macchinina di merda E RCXD, quelli lì, bastardi Infatti godo come una troia quando vedo la gente che mi spara l'RCXD Eh ma anche normalmente Eh tua mamma, quella lei, sai quanto Mi devono spiegare, chi cazzo usa nella realtà la macchina radiocomandata? E gli albanesi E gli albanesi Perché poi alla fine sono tutte difettose e saltano in aria Le porti vicino Eh sì, tipo Niente, qui subito le mie, come avete visto, le mie serie uccisioni sono Ero spia Contro spionaggio Anzi, UAV Contro attacco UAV In attacco al Napalm E niente, subito le ho chiamate Le chiamo tutte su questa Me la sto camperando in questa zona Sennò ci sarebbe un'altra zona Dove dire che Django È una mappa Di merda? No È una mappa dove ci si può camperare bene Vabbè, in tutte le mappe te la puoi camperare anche in Yuketown No, in Yuketown non te la capri Come ragazzi, puoi camperartela Ehi, dentro la casa Ho capito, arriva sulla gente, non te l'accordi, guarda Vabbè, tu ci piazi dentro la mina Vabbè, ma in giungle ti puoi camperare In giungle In giungle In giungle Oh, scaputta L'inglese è detto forte Andiamo avanti Ho quattro e mezzo Vabbè, non penso che lo vogliono e freghi Vabbè, non me ne è appunto, infatti Mi sa che ce l'allungo anche quattro e mezzo Quindi Ragazzi Ragazzi, sì, certo Che ragazzo burlone E questo qua mi devi spiegare come cazzo ha fatto a non morire Boh, eppure non ha antischeggia Perché non ha la divisa d'antischeggia Ha più fantasma È immortale Ah no, ho sbagliato Non è gioco di prestigio È esperto come secondario E poi ho hacker come terzo Spettiamo per i poveri ignoranti come me cosa fa hacker Perché non lo sai veramente No, non lo so Sei un deficiente Hai presente il rapporto di Modern Warfare 2? Sì Ecco, ti fa venire le mine Claymore C4 Equipaggiamenti Quindi torna il robot I dildi che ci sono per terra Eh, qua lì Li fa vedere alla sorella di Marco Ma cosa c'entra? Vabbè, comunque E niente Questa è la prima zona di camperarsela Per evitare che la gente Venga a disinnescare B B Perché tu sarai Starai attaccando E piazzando l'infiltrazione là dietro Appena crepi Puoi subito tornare qui In due secondi Questi qui Ma come cazzo hai fatto Vieni qui Cioè io te l'ho ucciso Due secondi fai Non è impossibile Cioè Ma che sei un pezzente E poi arriva uno Cioè piazzarla direttamente qua Piazzarla direttamente qui? Cosa? No, no No, perché sennò Poi te la fanno saltare in aria Con una granata Mentre se me la lanciano Non c'è di fare 20 minuti di corsa libera Eh, sì Sono due secondi Devi diventare un runner poi E niente Questa partita qui Sì è Bastata Perché c'è un camperone così Non si vede mai su internet Cioè perché tutta la gente dice No io odi camperoni Odi camperoni Però chissà perché Però chissà perché per me Cioè tutti Camperano Quando non devono fare dei video Però io Me ne frega un cazzo Io metto tutti i video Che ne voglia Quelli venuti bene li metto Anche perché io non sono uno Dai grandi risultati Cioè Eh, si vede Eh, te fai qualche uccisione Dai, stai zitto Va, che in Modern Warfare 2 Ti do una merda Fare qui il scope Che faccio di quelle 360 Ma stai zitto Ma se fino a prima Abbiamo fatto la partita Modern Warfare 2 Io ho fatto 17 uccisioni Tu ne hai fatte 15 16 Eh, vabbè Io ne ho fatte 17 E quindi Una in più Minchia Vabbè Ho vinto io Tanta tanta roba Io ho mondare Tu mondare E gli mondare E gli mondare E niente Abbiamo Ragazzi Iscrivetevi al nostro canale Eh, sì, appunto Ci abbiamo un cazzo di video Dai Sennò poi Lele piange Ebbè Non è colpa mia Se qui l'unico Che fa video Sono io Io non ce l'ho Black Ops Eh, vabbè Non sono Black Ops Mother Warfare Mother Warfare 2 L'ho venduta a te World Out War Eh, vabbè C'è Lele con Mother Warfare 2 Sì, ma Ragazzi Tu per l'Xbox Perché ricordiamo Allora Lui è per l'Xbox Giochi su internet anche? Sì, sì Allora Di il tuo contatto E per aggiungerti Per giocare con te Marco A6T8 Eh, Marco A6T8 A6T8 Tutto minuscolo Tutto maiuscolo Tutto minuscolo Ok Simone invece si chiama Io non ce l'hai neanche Modern Warfare Le ho venduti tutti Vabbè Ma tu Tu c'hai Quando Tanto tu te lo compri Black Ops Te lo dico io No Compro Modern Warfare 3 Eh, sì Quando uscirà Se lo farà Vabbè Comunque Tu sei comunque Dai dillo comunque Per chi vuole S Magari S 1995 No S 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 Si trattino quello del meno 10 poi c'è Lele che invece in questo periodo non è meglio aggiungermi perché c'è una connessione internet vi fa schifo Non penso Eh vabbè però se volete proprio io mi chiamo Alberto minuscolo trattino basso e B maiuscolo Perché ti chiami Alberto di secondo nome? No è suo fratello E invece io sono Giorgio ho scritto maiuscolo trattino del meno trattino del meno b minuscolo Niente io faccio in questo periodo faccio più che altro quickscope perché cioè mi lasciano un casino Cioè c'è gente tipo con cui gioco tipo un mio amico Ginesse oppure c'è Play Francesco poi c'è altra gente Fica fare le quickscope mi lasciano un casino c'è un pezio pauroso E niente qui è finito il primo round abbiamo vinto e niente passiamo al secondo round dove noi saremo in attacco Si attacco E invece questo te la camperi ancora? Eh certo io me la campero sempre Ma figa Questo qui è il secondo punto dove camperarsela in giungle Dove è abbastanza noto come luogo di camperamento Eh sì ma anche l'altro non è che non è noto Questo qui lo puoi usare per camperare sempre In qualsiasi tipo di match anche del match a squadra Nel tutti contro tutti e tutti contro tutti nessuno campera in genere Anche perché ti ammazzano prima se non ti metti a camperare Mentre qui in queste altre partite c'è sia questo punto poi ci sono vari punti in base a dove sono le bombe Le bombe da piazzare, le bandiere Ci sono vari punti nel camperarsela Niente qui subito ho cominciato a camperarmela la lastra grande qua sopra E niente Simone dai parlaci un po' tu cos'è che giochi quando sei su Playstation? Non gioca alla Playstation Non ci gioco quasi mai altrimenti Ma che perché non c'ho i joystick da due mesi E' buono E però vabbè Avevo Modern Warfare 2 solo che l'ho venduto Non l'ho venduto a me A te E quando uscirà Modern Warfare 3 Lui gioca Sì a Modern Warfare il primo Call of Duty 4 Modern Warfare Quasi mai però Potresti giocare anche a World at War Non è brutto Però Modern Warfare 4 Lì Modern Warfare il primo è carino Sì G36 Cioè Che cazzo stai dicendo? Mi è venuto in mente Nel 4 c'è il G36 E mi è venuto in mente che l'ho comprato È carino Modern Warfare Sì carino Per fare il cecchino è molto più bello per fare le Pixcope Per esempio Poi vabbè Lele gioca su Modern Warfare 2 Perché Black Ops non gioca più L'ha incominciato Ma non l'ha neanche termine Portanto metà Io No Nella campagna l'ho finita Eh vabbè però non giochi mai E Cristo Non mi piace la tipologia di gioco Come hai fatto il video così Preferisco Modern Warfare 2 Perché sei una capra Qui ad esempio adesso Avendo finito le munizioni per l'altra arma Per Lancia granate Lì ho preso questo Wa 2000 Che è una merda di arma Una merda di fucile No non è un carino No non è un carino Perché è molto veloce col colpo E no non è per quello C'ha più che altro Ha tanti colpi Puoi sparare ripetizione Più che altro è proprio Beccarli in testa E niente Tra un po' Il video è finito 30 secondi ancora Niente Cominciamo con i saluti Iscrivetevi al nostro canale A quelli consigliati Se vi piace naturalmente Il nostro canale E a quelli consigliati Da me Strategico Strategico M200 Ganja Gli Airflex Tutta questa bella gente Che sono fortissimi Cristo Santo E niente Un saluto da tutti Ciao Dai 4 della Maria Da Giorgio Marco Lele Simone Ciao a tutti Ciao a tutti